Il più cordiale buon giovedì da Maria Bettrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie positivo. Domani venerdì sarà il giorno di Procida. Alle 9.30 sarà presentato in diretta sul canale YouTube del MIBACT il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Procida è in Lizza con altre 9 città finaliste, le cui audizioni si terranno tra oggi e domani. Sarà poi compito della giuria indicare al ministro Franceschini entro lunedì 18 il progetto di candidatura più idoneo alla designazione della Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Sostenibilità, sviluppo e impegno sociale. La regia di Caserta e la cooperativa Eva insieme per un progetto sperimentale di raccolta degli agrumi nel Parco Reale e di produzione e commercializzazione di confetture che coinvolge donne occupate nel laboratorio le ghiottonerie di Casa Lorena. Centro antiviolenza realizzato all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Casal di Principe. La città come bene comune, 5 anni di Villaggio V. Evento online sulla pagina Comitato per Villaggio V. sabato 16 gennaio alle ore 18. Le ACLI di Caserta propongono tre appuntamenti di lettura commentata dell'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, il percorso di approfondimento e riflessione curato da non Nicola Lombardi, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro di Caserta e parroco di Casolla, Mezzano, Piedimonte e Staturano. Il primo appuntamento è per sabato 16 gennaio alle ore 10 sulla piattaforma Zoom. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo di OndaWebTV.it